23esima edizione della stilata di Carrevali di Savonia 23 anni sono trascorsi nei quali abbiamo maturato una bellissima esperienza siamo cresciuti e siamo arrivati quest'anno anche a un numero record di partecipanti perché avremo ben 1470 maschere che stileranno la mia immaginazione è un modo grande non s'è inizia non s'è inizia la mia immaginazione non vivi non vivi non vivi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.